L'incontro di oggi è servito ad affrontare vari temi legati alla politica dei trasporti e a quella delle infrastrutture nella nostra isola. Per quanto riguarda i trasporti abbiamo concordato e il Ministro ci ha assicurato la creazione di un apposito incontro con le compagnie aeree alla presenza dell'Enac per la prossima settimana per affrontare i temi legati ai collegamenti, soprattutto con gli aeroporti minori. Per noi è un passo avanti importante, soprattutto perché intendiamo seguire con particolare attenzione gli scali aeroportuali di Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria. Per quanto riguarda le infrastrutture il tema non riguarda soltanto le autostrade, ma le strade provinciali, i collegamenti ferroviari. In questo senso abbiamo ottenuto dal Ministro l'istituzione di un tavolo permanente che sarà costituito e si inserirà per la prima volta entro 15 giorni, al quale il Governo delegherà l'assessore Falcone per poter affrontare il tema ferroviario e viaglio. C'è un tema di riqualificazione delle autostrade, c'è un tema ANAS che è grande quanto una casa, per noi l'ANAS rimane una scatola vuota e c'è un tema legato alle ferrovie, a RFI e quindi all'inserimento in un piano strategico nazionale di alcune tratte ferroviarie finora tenute fuori. C'è poi il grande tema della viabilità provinciale che riguarda circa 15.000 km di strade, per il quale il Ministro Toninelli 21 mesi fa aveva promesso l'istituzione di un super commissario che potesse affrontare questo problema, lui disse, da terzo mondo. Abbiamo concordato con la Ministra De Micheli il paro e la trasmissione di un piano regionale per la viabilità provinciale nella speranza di riuscire a mettere assieme non soltanto alcune centinaia di strade, ma anche una dotazione finanziaria che superi almeno il mezzo miliardo. In questo senso noi abbiamo assicurato il nostro contributo di alcune centinaia di milioni di euro, altre risorse le appronterebbe il piano di trasferimento di risorse alle province da parte dello Stato e la rimanente risorsa arriverebbe dal governo centrale, quindi dal Ministero delle Infrastrutture.